Buongiorno, sono Stefania Cammarata, sociologa di formazione, cantante di professione attualmente e collaboratrice della Fondazione Cantabile. Mi è stato chiesto di fare un po' riferimento alle mie competenze sociologiche per dire qualche cosa sul concetto di sostenibilità da un punto di vista sociale. Pensavo che avrei trovato tantissimo materiale su questo tema, che è un tema che attraversa la società a tutti i livelli e ho realizzato che in realtà la produzione è ancora da un punto di vista più teorico abbastanza limitata. Per cercare di dare una chiave di lettura semplice di quello che può essere definito sostenibilità da un punto di vista sociologico, mi sono posta semplicemente questa domanda, che cosa intendiamo noi per sostenibilità? Perché ne parliamo tanto, ma forse dobbiamo un po' fare chiarezza, anche perché molto spesso si fa riferimento a questioni che riguardano l'ambiente, il mutamento climatico, sul riscaldamento del pianeta e si trascurano forse degli aspetti che invece hanno a che fare anche con altri ambiti, altre aree della società. Possiamo definire la sostenibilità come un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del presente senza che vengano compromessi i bisogni delle generazioni future.